Benvenuti al centro di notizie e gossip. Prima di entrare nelle novità del giorno, un mi piace e la vostra iscrizione al canale sono per noi segni immensi di apprezzamento. Grazie di cuore. Durante una puntata recente e ricca di emozioni del grande fratello, abbiamo assistito a un momento particolarmente toccante, Alfonso Signorini, visibilmente commosso, ha condiviso con il pubblico alcune notizie preoccupanti su Giuseppe Garibaldi. Giuseppe Garibaldi non è solo un nome tra i concorrenti del grande fratello, è una persona che ha saputo conquistare il cuore e l'attenzione di molti. Di recente, tuttavia, ha dato ai suoi fan nuovi motivi di preoccupazione. Nell'ultimo episodio trasmesso, Signorini ha aggiornato gli spettatori sullo stato di salute di Giuseppe, spiegando che il ragazzo ha dovuto temporaneamente allontanarsi dal contesto del gioco a causa di alcune complicazioni mediche. Questo non è stato il primo allarme per la sua salute, già in precedenza, un malore aveva richiesto la sua breve uscita dalla casa. Fortunatamente, Giuseppe era riuscito a riprendersi e a fare ritorno tra i suoi compagni di avventura. Tuttavia, un nuovo contrattempo ha reso necessari ulteriori controlli medici, comportando un'altra pausa dalla sua permanenza nel programma. Nicola, il fratello di Giuseppe, ha fatto sapere ai fan, attraverso i canali social, che non c'è motivo di allarmarsi troppo, le condizioni di Giuseppe sono monitorate e sotto controllo. Nel frattempo, Signorini ha assicurato che il ragazzo è in buone mani, pur non essendo in grado di prevedere quando potrà rientrare nella casa. La mancata apparizione di Giuseppe nell'episodio di ieri sera ha generato una nuova ondata di preoccupazione tra il pubblico, evidenziando l'affetto che il giovane ha saputo guadagnarsi. La produzione del programma e lo stesso Signorini hanno rimarcato l'importanza della salute di Giuseppe, sottolineando come questa debba avere la priorità assoluta rispetto alla sua partecipazione al gioco.